Profughi sale la tensione nei comuni Irpini di Prata Principato Ultra e Sant'Angelo dei Lombardi. Il sindaco Gaetano Teneriello annuncia gli screening sanitari nelle cinque strutture che li ospitano. Intanto saranno effettuati screening sanitari anche sullo stato di salute dei migranti e martedì è previsto un ultimo vertice in prefettura che suona come un ultimatum. Se non vedrò azioni concrete di trasferimento dei migranti in altri comuni, procederò con gli sfratti, annuncia Teneriello. Una linea già adottata dal sindaco Rosanna Repole del comune al Tirpino. Dovrebbero trasferirsi nei dieci oggi e alcuni all'inizio della settimana. Grande solidarietà ai profughi, anzi forse a questi che arrivano subito ancora di più, però grande chiarezza nel governo delle cose, piccoli numeri e coinvolgimento del territorio. Il percorso per il definitivo trasferimento sarà completato in due giorni, come concordato. Questa settimana la stessa Repole contatterà gli altri sindaci per allargare la rete dell'accoglienza, così ogni comune potrà fare la sua parte. Quello dei migranti rappresenta e sarà un argomento di attualità stringente. Serve organizzazione e responsabilità da parte di tutti, chiude il primo cittadino. Dal canto suo Gaetano Teneriello commenta L'accoglienza va migliorata, il mio comune ormai è allo stremo. Ci sono cinque centri per un totale di 140 profughi. La nostra richiesta è chiara, almeno 70 vanno trasferiti altrove. Sono molto deluso per quanto è accaduto, non è possibile violare così le disposizioni governative. Intanto a Sant'Angelo dei Lombardi sono partiti trasferimenti e 10 dei 23 migranti ospitati in Contrada Fredane sono stati già accompagnati ad Ariano Irpino. Si tratta di giovani tra i 18 e i 27 anni.